Progettato dal designer cileno Felipe Iglesias e ispirato ai principi del razionalismo di matrice Bauhaus, Antablet non è un semplice armadio, ma un vero oggetto d'arredamento polifunzionale. All'interno delle sue ante, infatti, trovano spazio tre Tab S Samsung, che spenti fungono da specchio, ma una volta accesi, diventano uno spazio dove godere appieno della magia del cinema e delle serie TV. I tre Tablet, grazie a Infinity, permettono di vedere più film o serie TV anche contemporaneamente, senza connessione a Internet, e in più, essendo singolarmente estraibili, possono essere portati fuori casa. Una grande comodità per chi ama viaggiare senza portarsi dietro l'armadio.